Salve a tutti. La scorsa settimana ha visto l'esplosione del bubone di uno scandalo bancario in Gran Bretagna. Questa volta non si tratta della solita banca che crolla misteriosamente o di investimenti in mafia o terrorismo. Questo scandalo coinvolge direttamente i clienti più o meno normali di uno dei maggiori gruppi bancari britannici, il gruppo NatWest che ha 19 milioni di clienti in Gran Bretagna. Lo scandalo nasce una quarantina di giorni fa dall'improvvisa chiusura dei conti personali e societari di Nigel Farage, il controverso politico di destra che è stato uno dei volti principali del movimento per la Brexit. Quello che è successo è questo. Farage si è improvvisamente visto chiudere i propri conti presso la banca Coots, che è un'antica banca inglese specializzata in clienti facoltosi e ora fa parte del gruppo NatWest. Quando Farage ha chiesto la motivazione della chiusura non ha ricevuto risposta dalla banca e si è improvvisamente ritrovato in grossa difficoltà. Anche perché ormai la Gran Bretagna è quasi una società cashless dove quasi tutti i pagamenti sono digitali, le banconote sono ormai quasi inutili, quindi non avere un conto bancario e le relative carte di debito e credito diventa un enorme problema. Farage ha quindi cercato di aprire conti in altre banche per poter ovviamente continuare a gestire i suoi affari. Ma nessuna banca inglese glielo ha permesso tanto che per continuare a fare le spese giornaliere ha dovuto ricorrere a carte prepagate straniere. Ovviamente Farage non è stato zitto, è un volto pubblico noto con un seguito sui canali televisivi e social, con contatti politici e legali e quindi quando ha reso noto cosa gli stava succedendo è intervenuta la BBC stranamente dichiarando che non c'era niente di strano e che i conti di Farage erano stati chiusi perché sotto la soglia minima di valore necessario per essere clienti di Kutz, perché Kutz essendo una banca per i facoltosi sotto una certa soglia non vuole clienti. Ma questa è una cosa strana. Come poteva la BBC sapere quanti soldi ha sul conto un privato cittadino? A meno che qualcuno nella banca non abbia divulgato informazioni risolvate. È come se la Rai sapesse quanto imbanca io o chiunque di voi stia guardando questo video. Ma la cosa più strana è quello che è emerso dopo circa un mese, cioè il tempo che ci è voluto perché Farage risiovesse un rapporto dal garante della privacy inglese. Questo rapporto che si chiama Subject Access Report permette a qualsiasi cittadino di avere accesso a tutti i dati che lo riguardano che sono detenuti da una particolare azienda, in questo caso la banca Kutz. Quello che è emerso dal rapporto è perlomeno inquietante. Risulta infatti che la banca abbia commissionato una società specializzata per analizzare non solo tutti i post social di Farage ma anche tutto quello che i media hanno detto di lui in tanti anni. Potete immaginare ciò che può dire un giornale di sinistra su un politico di destra come Farage, soprattutto nei momenti in cui si è fatta la campagna per la Brexit. Immaginate voi. Il risultato quindi di questa indagine di questa società è un collage di punti di vista e a volte vere e proprie calunnie. E questo collage è stato consegnato a una commissione interna della banca che si occupa dei potenziali rischi d'immagine. Insomma, in questo collage si accusa Farage di aver preso dei soldi da Putin, cosa peraltro smentita dai tribunali inglesi in una causa portata avanti da un socio di Farage e che ha vinto. Si accusa sempre Farage di essere un supporter di Trump, che non sembra essere illegale, ma evidentemente comincia a esserlo, e di essere genericamente anche uno xenofobo e un razzista. Sulla base di questo collage la commissione della banca ha stilato un rapporto di 36 pagine in cui dice letteralmente, pur non avendo motivazioni legali o economiche per chiudere il conto di Farage, consigliamo di farlo in quanto le sue opinioni non sono in linea con i principi di inclusività della banca. Allora non era vero che Farage non aveva i soldi. E poi non esistono sentenze che attestano che Farage abbia fatto alcunché di illegale, di xenofobo o di razzista, tranne avere una posizione molto critica sugli sbarchi illegali di clandestini in Gran Bretagna. Ora, ammesso che sia abbia delle opinioni diciamo di estrema destra, anche se non sembra poi così estrema, tutto ciò non è assolutamente illegale in un paese democratico. Ognuno può avere la propria opinione politica. Poi, se fai qualcosa di illegale, allora sì che cambiano le cose. Quindi la banca gli ha chiuso il conto semplicemente perché Farage ha idee politiche diverse da chi controlla la banca. E questo è un grosso campanello di allarme, il segnale di una deriva molto pericolosa, per vari motivi. Il primo è che a questo punto è evidente che la chiusura del suo conto è un'evediente persecuzione politica. E poi c'è la questione delle menzogne della BBC. Il secondo è che dopo che Farage ha dichiarato pubblicamente quanto gli stava accadendo ed ha invitato chi aveva problemi simili a contattarlo, pare che i cittadini colpiti da simili provvedimenti spiegabili siano varie migliaia. E non si parla solo di figure di spicco o politicizzate come Farage. Migliaia di persone e società normalissime, piccole e medie, che magari avevano un conto presso una tuesta a diecenni, hanno subito lo stesso trattamento. E sembra che molte di queste siano società che per la loro natura continuano ad accettare contante. Ora, la questione è finita in Parlamento e il governo ha subito varato nuove linee guida per aumentare la trasparenza delle banche in questi frangenti. È stato per esempio stabilito un tempo di preavviso di tre mesi che permette alle persone colpite innanzitutto di trovare soluzioni di deposito alternativa in quei tre mesi, ma poi anche di richiedere subito i documenti al garante della privacy e fare eventualmente causa prima che i conti siano chiusi. Questo col sistema inglese si può fare. Da noi no. Giovedì scorso è arrivata una lettera di scuse, alla fine, dell'amministratrice delegata di NatWest per le illazioni e le evidenti falsità con cui la banca ha preso decisioni su Farage, offrendo di aprirgli un conto personale presso NatWest, ma non uno societario per qualche motivo. Ma sembra che questa mossa dell'amministratrice delegata non basti a limitare i danni che il gruppo NatWest può subire da questa faccenda. Infatti pare che siano in arrivo migliaia di richieste di Subject Access Report da parte di tutti quei clienti e quelle aziende che avevano subito lo stesso trattamento, ma che non avevano capito bene come muoversi e che ora stanno seguendo l'esempio di Farage. Questo potrebbe creare non pochi grattacapi, nonché un notevole aumento delle spese legali e dei risarcimento che NatWest dovrà affrontare nel caso emerga, che non esistevano motivazioni legali per chiudere queste migliaia di conti. E visto com'è andata la storia di Farage potrebbe essere che la banca non è che abbia avuto tutte queste vere scuse per chiudere i conti. Ieri è arrivata infine anche la lettera di scuse della BBC, cosa assai rara. Scusa è che Farage ha accettato, ma non senza far notare che l'editore della BBC che aveva diffuso i dati falsi su Farage lo ha fatto il giorno dopo una cena di VIP in cui, guarda caso, era seduto proprio accanto all'amministratrice delegata di NatWest. Una strana coincidenza anche questa. Certo è che viviamo tempi interessanti. Nel senso, com'è possibile che una banca si arroghi una qualsiasi superiorità morale rispetto a chi che sia? Investono da sempre in armi, guerre, mafie, paesi con record molto scarsi per quello che riguarda i diritti umani. Di tutto di più, i conti dei signori della droga sono sempre aperti, ma quelli dei dissidenti politici e dei commercianti che accettano contante vengono chiusi. Come possono escludere questi signori e signore un concorrentista su basi morali? Quali basi morali? Una banca, ma scherziamo? Senza contare l'evidente ossimoro di escludere qualcuno sulla base di non ben definiti principi di inclusività. O escludi, o sei inclusivo. Ora, chi ci segue sa bene che questo canale non è schierato politicamente, nel senso che sosteniamo da sempre come il gioco, destra e sinistra, sia in realtà il teatrino del divide ed impera con cui si tengono addormentate le coscienze, e quindi mettiamo costantemente in guardia sia dall'una che dall'altra piramide. Questi avvenimenti però sono, a nostro parere, un'avvisaglia di ciò che il potere che gestisce entrambe le piramidi vuole portare avanti, perché chiudere i conti degli avversari politici a molti può sembrare una cosa buona e giusta. Ma queste persone dimenticano che storicamente la ruota gira e che una volta ammessa una cosa del genere chiunque ne può divertare bersaglio. Magari domani toccherà i politici di sinistra perché le banche saranno in mano alla piramide di destra, e allora magari sarà troppo tardi per denunciare il fascismo. Oppure cominceranno a chiudere il conto a persone che, non so, come me, mi chiuderanno il conto perché cinque anni fa ho messo il sacchetto dell'organico nel bidone dell'indifferenziata, o perché non ho indossato la mascherina quando dovevo, o perché non mi sono iniettato sostanze sospette. Se questa cosa può succedere in un paese come la Gran Bretagna, uno dei paesi in cui i cittadini sono maggiormente tutelati, e dove il governo è stato quindi subito costretto a correre ai ripari, ci chiediamo cosa succederà quando queste pratiche arriveranno in Italia, ammesso che non siano già arrivate. Da loro è passato circa un mese e mezzo dalla chiusura dei conti di Farage alle scuse pubbliche della CEO di Lat West e della BBC. Quando succederà da noi? A chi potremo rivolgerci? Avete mai visto il capo di una banca nostrana chiedere scusa a chi che sia? Il garante della privacy agirà come quello inglese? Avremo diritto a sapere cosa sa e cosa dice di noi la nostra banca? E soprattutto fare una causa in Inghilterra è cosa relativamente breve, ma da noi richiede anni e anni, e se nel frattempo i conti sono bloccati come faranno i cittadini a vivere e contemporaneamente pagare le spese legali di un'eventuale causa. Quale governo difenderà i cittadini? La destra? La sinistra? Le cinque stelle? Siamo sicuri? Forse è meglio iniziare a tenere d'occhio i movimenti delle nostre banche, magari fare gruppi di controllo sui social, pool di avvocati o cose del genere, come per esempio hanno fatto alcuni medici svegli durante il covid. Cioè avere dei luoghi pronti dove i cittadini possono avere subito informazioni vere, utili e supporto. Come diceva quella vecchia pubblicità, prevenire è meglio che curare e forse è il caso che cominciamo a prevenire noi. Coraggio!